la scelta è uno dei quadri a cui sono più più legata chi tra di noi non ha dovuto fare una scelta importante della sua vita ma questa è la scelta delle scelte voluto rappresentare la scelta delle scelte rimanere chiusi nella propria bolla di dolore di dubbio di incapacità di vivere di blocco oppure rinascere come la fenice infatti vedete che al centro c'è una fenice con le sue ali ampie la sua coda meravigliosa che protegge e porta o porta via con sé porta a volare tanti mondi noi i mondi li rappresento con i cerchi le figure rotonde circolari tutto ciò che rotondo mi fa pensare al mondo agli atomi a qualcosa che riguarda la vita in questo caso questo quadro molto grande dipinto su legno tecnica mista è un quadro altamente simbolico dove troverete tanti simboli tanti significati ho voluto rappresentare la nostra capacità di rinascita e di scegliere la nostra possibilità di scegliere libero arbitrio ma il grado tutto infatti vedete che dall'altra parte del quadro la donna sorride è felice realizzata piena quindi anche io mi sono trovata nella vita in un momento non è solo un momento è proprio un'attitudine in cui mi sono chiusa mi sono sentita incapace di uscire di uscire dalla tristezza dal dolore e capita ogni tanto ritorna ritornano questi momenti sono ciclici però poi non so c'è una forza in me decido che non mi posso far trascinare che non posso dar la vinta a questa sofferenza e riesco a sorridere ed è anche questo quadro sono affezionata e legata perché anche un augurio augurio a tutte le persone che quando lo guardano magari non stanno proprio bene ma è come se io volesse dire loro dai ce la puoi fare scegli di essere felice